Edder, Mech, Pallister. Filippo e Giulia giungono a Fosso in un piazzale dove ci sono delle telecamere della Dior. La scena che si vedrebbe è di lei che in qualche modo riesce a scappare e a scendere dall'auto. A questo punto lui la raggiunge e la colpisce in modo molto aggressivo a mani nude, quindi non avrebbe in mano nessun oggetto contundente. E dopo, mentre le sanguina, la trascina per un braccio a bordo dell'auto. Resterebbero sull'asfalto i segni di sanguinamento copiosi e forse anche sciocche di capelli, anche se questo è in fase di accertamento. Dopodiché la macchina si accende e i due spariscono nel nulla. Giulia in questa aggressione avrebbe riportato delle gravi ferite e per salvarsi avrebbe avuto la necessità di essere portata immediatamente in un ospedale. Gentili ascoltatori, buona giornata da Sensitivo Locchi. Filippo è ufficialmente indagato per il reato di tentato omicidio. Questo potrebbe stare a significare che, come avevo anticipato ieri sera, le tracce di sangue, è arrivato l'esponso del DNA e le tracce di sangue che trovate sull'asfalto appartengono a Giulia Cecchettin. C'è tanta stranezza perché sono passati oltre cinque giorni, questo mi pare il quinto o il sesto giorno, dove ci sono stati tanti avvistamenti e nessuno ha mai fermato questa macchina. Io, come ho detto ieri sera, a mio parere, il Filippo sta viaggiando in solitudine, ossia che la Giulia non è più con lui. Ora, qui sorge un problema abbastanza grande. Considerato che lo stesso Filippo ha occultato il corpo, è solamente lui a conoscenza dove questo corpo giace, il corpo di Giulia giace. E se lui dovesse togliersi la vita senza dire nulla, il corpo di Giulia diventerebbe un mistero. Poiché, considerato che, a meno che, non lasci una lettera indicando dove ha occultato il suo corpo. Però, tutte queste strade secondarie, tutti questi avvistamenti, tutte queste regioni che in questi cinque giorni lo stesso si è spostato, mi fanno pensare che questo losco personaggio non ha nessuna intenzione da far ritrovare il corpo. E anche se venga preso, come io spero, sicuramente può avvalersi della facoltà di non rispondere. perché io già me ne occupai tantissimi anni fa di un caso analogo dove i morti in quella occasione a Grato li erano due, mamma e figlia, il responsabile è stato arrestato, condannato in tutti e tre i gradi di giustizio alla pena dell'ergastolo, però i corpi di mamma e figlia non sono stati mai più ritrovati. Ma io credo che contestualmente all'accusa di tentato omicidio io penso che la Procura della Repubblica di Venezia abbia anche disposto un degreto di fermo nei confronti di Filippo. Però, signori, sono passati cinque giorni. Questa macchina è stata notata in diversi luoghi, però attualmente non è mai stato fermato, non è mai stata fermata. Io spero con tutto il cuore che venga al più presto assicurato alla giustizia, ma vi dico sto perdendo le speranze, sto perché più passano i giorni e più questo individuo è uccell di bosco. È come se si stesse prendendo beffa di chi gli sta appunto dando la caccia. Il momento il momento perché lui ha ucciso Giulia è il momento che ha detto Eder nel precedente video. L'ultimo digniego di Giulia l'ha portata alla morte. questo è un femminicidio basta è un femminicidio il suo digniego l'ha portata alla morte perché Filippo nella sua mente ha pensato o mia o di nessun altro. questo è in sintesi quello che io ritengo che sia successo e di fatti fino ad oggi ritengo che mi stiano dando ancora una volta ragione. Di nuovo amici un buon proseguimento di giornata a voi tutti da sensitivo all'occhi di Giulia vecchia. Ehi non dimenticare di iscriverti a questo canale Eder Metallica